Una festa danzante clandestina è quella che hanno scoperto gli agenti della Municipale di Rimini nei controlli anti-covid che lo scorso weekend sono stati disposti anche in merito al rispetto della nuova ordinanza emessa da Palazzo Garampi per la vendita di bevande alcoliche negli esercizi di vicinato, distributore automatici, attività artigianali, un presidio del territorio esteso anche alla sicurezza stradale. Nella notte tra sabato e domenica una pattuglia ha fermato diverse persone sanzionandone due per guida in stato di ebrezza. Nei guai è finita una ragazza neopatentata trovata con un tasso alcolemico di 1,58 alla ventenne. Oltre alla sospensione del documento di guida è stata contestata la sanzione con le aggravanti previste dalla norma ovvero la guida tra le 22 e le 7 del mattino e la patente da meno di tre anni che prevede un tasso alcolemico uguale a zero. La giovane si è vista anche sequestrare il veicolo secondo quanto disposto al corice della strada. Nell'ambito dell'ordinanza contingibile e urgente messa dal comune di Rimini le divise seguendo le indicazioni di alcuni esposti fatti dei cittadini hanno pizzicato poi un'attività danzante all'interno di un pubblico esercizio. Nel ristorante gli agenti hanno riscontrato oltre al ballo in assenza di autorizzazione in violazione dunque alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e la violazione alle disposizioni del Ministero della Salute costata al titolare una sanzione di 400 euro. Anche il mancato rispetto delle prescrizioni del DPCM del 13 ottobre sulla gestione dei tavoli all'interno del locale che ha fatto scattare un'altra sanzione di 400 euro.